Continua la battaglia del Paese di Nove all'impianto a Biomassa. Abbiamo superato le 400 firme per il referendum. Obiettivo raggiunto. Il comitato che si batte contro l'apertura dell'impianto a Biomassa a Nove ha superato le 400 firme necessarie per chiedere un referendum consultivo. Ma non si accontentano perché il messaggio al sindaco Luisetto deve arrivare forte e chiaro. La raccolta continua. Adesso noi vogliamo ancora, tutti quanti possono venire a firmare perché vogliamo che tutta la cittadinanza abbia la possibilità di decidere se volere questo impianto o no. Siamo in piazza Nove. Domenica dalle nove e mezza fino alle 12 e trenta c'è ancora tempo dunque per sostenere questa battaglia. Per un comune come Nove si tratta di un risultato già molto importante. Una mobilitazione di popolo così deve essere considerata. Il sindaco lo sa e sa benissimo che dare il via libera all'impianto è un rischio sia dal punto di vista politico che amministrativo. I margini per intervenire, visto che dal punto di vista dell'urbanistica pieni i poteri ci sono, ci pensi bene.